C'è stato un evento un po' tragico, nel senso che durante un allenamento ho preso un pugno in bocca e quella è stata la scintilla scatenante che mi ha fatto prendere la decisione vera e propria. Appunto, essendo un istruttore di karate, sono a contatto con bambini, con i genitori, insomma, affrontare anche il poter dialogare con le persone. Prima mi costava un po' di fatica, infatti sempre poco sorriso e sembravo quasi un burbero, nel senso sempre serio. Invece così, piano piano, adesso dovrò abituarmi a una vita normale, che è quella di prima non era. Mi sono informato un po' tramite i social, attraverso i social, le recensioni dei clienti che già erano stati qua. È stata una cosa molto ponderata, perché l'ho seguita per più di un anno. In Moldavia ho scoperto che avevo anche una paradontite. Ho fatto un intervento con la sedazione totale, posso dire quello? Penso di sì, perché tra le altre cose ero un infartuato. Ho avuto un infarto, perciò abbiamo optato per la sedazione totale. E infatti mi sono addormentato in un modo e mi sono risvegliato in un altro. Dopo 3-4 giorni avevo già i miei denti provvisori, cosa che penso che in Italia era una cosa impossibile in poco così tempo. Adesso sono ritornato per il secondo step, sono i definitivi e niente, sono super soddisfatto. E passo passo vedremo di tenerli il più a lungo possibile. Spero di morire prima io che i denti, ecco. No, vabbè, le aspettative non ne avevo. Cioè io sono una persona che si adegua, nel senso che ho preso una decisione e la faccio. Vada come vada, quello che mi trovo davanti lo affronto. È inutile che mi faccio film mentali che magari non esistano. Perciò parto, vado e poi l'affronto al momento. Quello che c'è mi adeguo. Però sono rimasto stupefatto perché pulizia, le persone gentilissime, proprio come essere in famiglia. Ci hanno accolto come veramente essere in una famiglia.